Questa volta ad uscire e poi rientrare dal grande hotel Alba Alcamo è stato un ospite illustre. Si tratta dell'allenatore Giuseppe Guida che aveva rassegnato le dimissioni, pare per contrasti insorti con i giocatori, dopo la partita col Cus Palermo. Stando ad un comunicato dell'Alba Alcamo tutti avrebbero fatto pressione, dirigente e staffi tecnico, affinché Giuseppe Guida tornasse a sedere sulla panchina bianconera. Gli hanno comunicato che hanno deciso di respingere le dimissioni anche se la società già si era messa in moto per sostituirlo. L'Alba Alcamo sostiene che il ritorno di Giuseppe Guida è stata la decisione più logica visto l'ottimo lavoro fatto in questi tre mesi dal tecnico palermitano, che va messo nelle condizioni di avere un organico definitivo per poter dare un voto in gioco alla squadra. Intanto domenica prossima i bianconeri giocheranno in trasferta contro il Camerat e per la prossima gara Casalinga, in programma il 22 ottobre, dovrebbe essere disponibile il Catella con gli interventi richiesti alla Commissione Provinciale dei Pubblici Spettacoli. Interventi che riguardano spogliatoio, potenziamento dei bagnotti, maniglia antipanico in alcune porte e sostituzione di lampade. Salvo novità l'Alba Alcamo quindi giocherà in casa il 22 ottobre. I tifosi potranno tifare per la loro squadra nella gara contro il Campofranco. Alla luce però dell'esperienza e delle vicende legate allo stadio Catella, il condizionale è d'obbligo circa la disponibilità per il giorno 22. Intanto la squadra ha ripreso gli elementi in un clima di rinnovata fiducia e il miglioramento si vede settimana dopo settimana, grazie anche agli ultimi tre innesti, Calaiò, Locasci e Stassi. Per la gara esterna con il Camerat per guida, nessun problema di formazione.